Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te e con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza un video per informare sulle novità relative alla nuova politica dei prezzi inaugurata da Padlet proprio ai primi di questo aprile del 2018 fino ad oggi Padlet era free, o meglio esisteva una versione premium, ma diciamo che nell'account di base, quello free, erano offerti tutti gli strumenti per la creazione di walls, di pacheche estremamente utili e versatili e adattabili a molteplici esigenze di ordine didattico non per niente Padlet è una delle applicazioni, anzi uno degli ambienti più popolari e più utilizzati dagli insegnanti di tutto il mondo anche in Italia quindi è stata abbastanza sconvolgente questa notizia perché si passa da un costo pari a 0 a un costo pari a 99 dollari all'anno tuttavia ci sono degli interrogativi, quanti Padlet possiamo realmente fare perché questa è la principale limitazione prima il numero di Padlet era illimitato, adesso il numero di Padlet, di wall che si possono realizzare con Padlet, che si possono appunto creare è limitato, bene per i nuovi utenti, la nuova versione free si chiama versione base, basic abbiamo un limite di 3 Padlet, di 3 walls e uno spazio di archiviazione pari a 10 MB abbiamo la pubblicità e abbiamo un supporto standard l'utente Pro, perché questa è la nuova definizione Padlet Pro invece avrà la possibilità di creare un numero illimitato di Padlet avrà uno spazio di archiviazione di 250 MB nessuna pubblicità avrà una priorità nell'assistenza che gli permetterà di saltare le code quindi di non attendere di fronte a problemi e avrà la possibilità di creare delle cartelle per tenere ordinati i suoi Padlet nel sito trovate le stesse caratteristiche che vi ho appena accennato descritte in modo un po' più approfondito se i nuovi utenti dell'account basic free avranno quindi la possibilità di creare solo 3 Padlet che ne sarà dei Padlet di quegli utenti che sono utenti da anni di questa applicazione bene i responsabili di Padlet hanno chiarito questo problema conserveremo tutti i nostri Padlet e potremmo mantenerli e potremmo realizzare oltre i Padlet che abbiamo soltanto 3 nuovi Padlet quindi vale anche per i vecchi utenti la regola del 3 quindi io che ho mi pare 30 Walls realizzati con Padlet 30 Bacchè che potrò arrivare a crearne 33 è stata chiarita anche un'altra questione io posso mantenere questo limite anche se cancello i miei Padlet supponiamo che io cancelli dei Padlet che non uso più che non mi servono più il mio limite rimarrà sempre 33 quindi in qualche modo si può giocare entro questo limite per creare dei nuovi Padlet cancellando Padlet vecchi che non si utilizzano più e che non servono più però certamente rimane il vincolo del limite della regola dei 3 quindi chi ha 10 Padlet potrà arrivare a 13 se ne cancella 5 il limite rimane sempre 13 quindi c'è un certo spazio di manovra naturalmente sui social molti insegnanti sono lamentati ritenendo che un passaggio da 0 a 99 dollari fosse eccessivo e quindi troppo costoso per le possibilità degli insegnanti e che quindi insomma questa notizia per molti è stata un trauma i responsabili di Padlet hanno risposto che non erano più in grado di mantenere per il successo stesso di Padlet tanti account free e che quindi hanno dovuto di fronte all'alternativa di o chiudere o appunto passare a un piano a pagamento hanno dovuto optare per questa scelta naturalmente molti utenti hanno replicato che a differenza di altre piattaforme simili Padlet che da subito specificavano che esistevano dei limiti nell'account free Padlet invece garantiva wall limitati per sempre e quindi insomma ognuno la pensi a modo suo è chiaro che non si possono avere servizi totalmente gratuiti d'altra parte è anche vero che è forse 99 dollari sono troppi per cui occorrerà fare una scelta se lo si usa in modo sistematico quasi quotidiano forse conviene pagare se invece 99 dollari sono circa 80 euro 75 euro che non è poco se invece si fa un uso saltuario di Padlet si può vedere di utilizzare delle alternative io consiglio un recente post del 3 aprile di Roberto Sconocchini maestro Roberto che nel suo blog appunto ha elencato alcune alternative a Padlet per esempio Netboard, Linoit, Stormboard eccetera che si va di bene però presentano anche esse tranne forse Netboard che è completamente gratuita molte di queste presentano comunque delle limitazioni si possono realizzare o tre baccheche o cinque o comunque ci sono altri limiti bene questo è tutto concludo con una raccomandazione quando si decide di utilizzare una applicazione web dal momento che non possiamo usarne centinaia contemporaneamente ma dobbiamo limitarci a usarne massimo una decina ecco quando si sceglie quale usare e quindi si sceglie di creare tanti lavori e archiviare tanti nostri lavori online con quell'applicazione dobbiamo stare attenti non solo alle caratteristiche tecniche alle funzionalità a prendere quali sono le procedure per utilizzare quella certa applicazione in quel certo ambiente dobbiamo anche leggere molto attentamente quelle che sono le politiche di pricing e quindi vedere qual è la strategia qual è il modello di business di quella azienda certo si può incorrere sempre in incidenti come con TAC o Storify dove molti hanno perso tanti lavori me compreso oppure è come nel caso di Padre dove ci viene assicurato che sarà free per sempre invece poi ci si è posti di fronte a questa situazione bene, sono riuscito ad arrivare a 7 minuti vi saluto e vi auguro una buona giornata